Tower of God l'hai letto perché mi sta intrigando parecchio, una chiavica appunto. Questo è il mio giudizio su Tower of God, che non ti incazzare amico Orak, cioè per carità può piacere a tutti. Io sono mediamente convinto che Tower of God possa piacere solo a quelli che in vita lore non hanno mai letto un fumetto. O se ne hanno letti, ne hanno letti 10 in croce. La storia non è nulla di che, i personaggi sono estremamente stereotipati. Ci sono i testimoni che quando noi abbiamo letto tutta la prima stagione in live, io appena ho visto un personaggio, subito ho detto questo è il villain della storia, appena l'ho visto, non dirò chi è, giustamente. Appena ho visto il personaggio, secondo me questo alla fine è il cattivo di turno, quindi è estremamente proprio banale, scontato. La prima stagione è disegnata pure una chiavica, diciamoci la verità, e su quei 100 e passa capitoli se ne salvano veramente solo 10, verso la fine, salvo poi totalmente risgonfiarsi. La gente mi dice, eh, ma la prima stagione è solo di preparazione, devi leggere la seconda. Io ho letto i primi 120 capitoli della seconda stagione ed è peggio della prima. Non succede niente, è una chiavica, il world building, la gente dice che è fatto benissimo, è fatto una chiavica, non si capisce assolutamente nulla. Ci sono 6774 personaggi che entrano, escono, non capisci chi è chi. I giochi non sono nulla di che, le prove non sono niente di che, copiate da millemila altri shonen, seinen, eccetera. E niente, secondo me è il classico fumetto che può piacere solo a chi davvero non ha mai letto un manga in vita sua. Ma ci sta! Orak, non piangere. Ci sta! Uno non può pretendere, ecco, no, faccio... Uno non può pretendere in vita sua di aver letto 6.000 fumetti. Il target di Tower of God non sono io. Il target di Tower of God è chi vuole godersi una storia in santa pace, leggera, divertente, con millemila personaggi, perché magari la può fare in foia. E va bene, ci sta, è normale che sia così. Ci sono poi, per esempio, dei webtoon che mi sono piaciuti e pace, ma quello non mi è piaciuto. La gente si incazzerà e dirà, eh, non capisci niente, posso avere un'opinione in controtendenza rispetto al mondo? E che cazzo? Eh, poca puttana, mica siamo tutti uguali. Ecco, per esempio, solo leveling è una puttanata intergalattica, ma è una puttanata disegnata bene sin dall'inizio. Si picchiano dall'inizio alla fine, quello devono fare, e io me lo sono goduto dall'inizio alla fine. Perché? Perché non pretende nulla. E' il classico fumetto che te te legge se vuoi vedere, mazzate, punto. Non pretende di fare filosofia, non pretende di fare giochetti mentali, non pretende di avere un world building che non è nulla di che. Si picchiano, solo leveling, lui deve fare power up e via, finì, bello, pace, a posto così, siamo tutti felici. E' disegnato veramente molto bene, fai fatica a staccarti perché è fatto in un certo modo, proprio tipo videogame. Ci sono dei momenti da fomento, quando lui, no, se esce fuori, so, alzatevi, no, però qua spoilerò. Io solo, rise, chi ha letto, sa, e via. Scoperto i webtoon con Pigpen grazie a te. In seguito ho recuperato The Boxer che è veramente immenso. Me lo segno, me lo segno. Con i webtoon ho un rapporto di odio-amore, nel senso che mi piace tantissimo l'impianto narrativo dei webtoon. Mi piace questo fatto che tecnicamente l'autore deve sfruttare la verticalità di un dispositivo elettronico, cellulare, tablet, e quindi l'impianto tecnico deve tener conto, da un lato, dei limiti della verticalità di quello che è poi il device su cui tu vai a leggere il fumetto, che, da un altro punto di vista, ti dà, però, un infinito numero di possibilità che su quello che può essere un fumetto normale, che ha come limite le due pagine, non ha. Quindi, da un lato, tu devi scrollare e hai come limite, diciamo così, l'impatto visivo del momento, dall'altro, però, la verticalità ti dà davvero spazio a un numero infinito di possibilità grafiche ed escamotage che ti consentono davvero di creare delle cose assurde, molto belle. Questo mi piace un sacco, dei webtoon, tantissimo. Di contro, poiché è comunque un tipo di narrazione, tra virgolette, novello, perché sta cominciando solo adesso ad esplorare questo nuovo tipo di possibilità, per uno bello ce ne so mille che fanno cagare. Quindi, nel mare magnum dei mille webtoon, uno è bello, gli altri fanno cagà. E io non è che posso perdere la mia vita a trovare quelli belli da quelli blutti. Quindi, diventa quello il problema, diventa quello. E quindi io sto aspettando, diciamo così, che questa sorta di formato elettronico e digitale evolva ancora di più narrativamente parlando, così poi da cominciare ad esplorarlo per bene, tenendo conto, almeno all'inizio, quasi esclusivamente di belle letture, come può essere, per esempio, Pink Pen. I fumetti dell'autore Pink Pen sono veramente... Kim Carnby sono veramente belli, perché sono pensati, sono strutturati, sono scritti bene, poi c'è la parte grafica che tiene conto della struttura di cui abbiamo appena parlato. Però, davvero, per uno bello ce ne so centomila che fanno cagà. E io ogni tanto vado, cerco a ravanare. Trovate difficilmente qualcuno che mi ha veramente poi intrippato. Grazie a tutti.